Sono qui per sbaglio, dovrei essere lì con voi. Così il tecnico del Pescara, Zrenek Zeman, ha scherzato rivolgendosi alla sala gremita che lo applaudiva a scena aperta. Questa mattina all'Ex Aurum di Pescara alla presentazione del programma sullo sport del Movimento 5 Stelle. A presentare Zeman Alessandro Di Battista che poco prima ha annunciato l'olimpionico Domenico Fioravanti, ministro dello sport, in caso di un governo 5 Stelle. Io mi sono schierato perché ci credo. Faccio lo sport, sono nel mondo dello sport. Mi interessa l'unica forza politica che presenta il programma sullo sport. Sono loro e quindi io ci sto molto vicino. Il discorso dei problemi dello sport ce ne stanno e si spera che si riesce a risolvere. Di Battista ha poi raccontato come è nato l'incontro con Zeman. Abbiamo detto che avremmo presentato una squadra di ministri patrimonio della nazione e non collegati esclusivamente ad una forza politica e così è. Domenico Fioravanti è un patrimonio dell'Italia e siamo convinti che possa diventare un grande ministro dello sport. Scoperto un falso dentista che senza nessun requisito professionale offriva cure in forma itinerante viaggiando per le città d'Abruzzo su un autocarro con l'insegna pubblicitaria SOS Dentiera. I carabinieri del NAS di Pescara hanno denunciato per esercizio abusivo della professione odontoiatrica un 55enne della provincia di Chieti. Con un kit pronto all'uso è stato accertato. L'uomo effettuava visite diagnostiche, trattamenti sanitari e riparazioni odontotecniche a ignari pazienti. La procura di Pescara ha emesso un decreto di perquisizione locale e personale seguito in collaborazione con i carabinieri della compagnia di Chieti nell'abitazione del falso dentista. Oltre al furgone i militari hanno trovato una struttura abusiva allestita nelle pertinenze dell'immobile con pannelli in legno e cartongesso al cui interno erano stati allestiti uno studio dentistico e un laboratorio odontotecnico. L'operazione rientra nell'attività di contrasto al fenomeno dell'abusivismo sanitario portato avanti in tutto l'Abruzzo. Andrei Feru, presunto omicida della giovane badante romena Catali Nuliana, uccisa a Carsoli nella frazione di Colli di Monte Bove, dopo essere stata scaraventata nelle scale, resterà in carcere. Lo ha deciso il Tribunale degli Esami dell'Aquila a cui si era rivolta la difesa impugnando l'ordinanza che ha applicato la detenzione in carcere al muratore connazionale della vittima. L'avvocato Paolo Frani, legale di fiducia dell'uomo, aveva presentato una richiesta di revoca dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del 52enne. Nella deposizione dell'accusa la ragazza sarebbe stata picchiata con violenza al culmine di una lite e di una scenata di gelosia perché lei riceveva delle telefonate da un altro uomo. Dalle indagini della Procura della Repubblica coordinate dal sostituto procuratore Maurizio Maria Cerrato e dalle analisi e sopralluoghi dei carabinieri del Risse di Roma sul luogo del delitto è emerso che le lesioni sulla donna sono riconducibili ad una violenta aggressione. Il 5 novembre scorso Cata Lignuliana era stata trovata ai Sanime in un'abitazione di Colli di Monte Bove, frazione di Carsoli, dove prestava servizio come badante ad un anziano. L'uomo si è sempre dichiarato innocente e sostiene di non essere entrato mai in quell'abitazione e di aver accompagnato la ragazza fino alla porta. Sono state sottoscritte le convenzioni tra la regione e le quattro province per gli interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità. L'investimento complessivo è di 56 milioni di euro a valere sui fondi del Masterplan che andranno a finanziare 46 progetti individuati in una serie di incontri che si sono svolti nei mesi scorsi. Queste risorse serviranno solo per la manutenzione, asfalto, riordino delle cunette e riassicurazione della certezza della percorribilità viaria. Quindi il presidente dell'Aggiunta regionale, Luciano D'Alfonso, ha evidenziato che questa operazione è stata costruita insieme regione e province perché la regione diviene territorio con le province, ha aggiunto D'Alfonso. Nel dettaglio, alla provincia di Chieti sono stati assegnati 16 milioni di euro destinati a sei interventi. alla provincia di Teramo andranno 15 milioni per 14 interventi. In provincia di Pescara gli interventi finanziati sono 8 per complessivi 14 milioni di euro. 11 milioni per la provincia dell'Aquila per 18 interventi. l'Aquila per 18 interventi.